Vi presentiamo i protagonisti di Faccia d'Angelo. Il Moro è l'action man della banda. Restanza fisica e ruenza sono le sue caratteristiche. I suoi compagni lo definiscono un ariete. Ce ne parla Andrea Gerpelli. Moro! Mettiamo! Mettiamo! Mettete insieme un giocatore di rugby. Pensate ad esempio ai fratelli Bergamasco, al nostro capitano Paris, di formazione cattolica. Vi e ti insieme potremo aiutare tutti i po' a reti con i frutti del mio lavoro. Dategli una rivoltella, meglio una mitraglietta. Si chiamerà Moro. Ciao, ci vediamo qui su Sky. Non perdetevi il doppio appuntamento esclusivo con Faccia d'Angelo su Sky Cinema 1, lunedì 12 e 19 marzo.